Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con la notizia dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha interessato lo stabilimento di Pometon, azienda di lavorazione di polveri metalliche situata nella zona industriale di Maerne di Martellago. A intervenire sul posto verso le 22.45 sono stati i vigili del fuoco, accorsi tempestivamente in via a circonvallazione con 16 operatori, due autopompe, due autobotti e il carro nucleare biologico, chimico e radiologico dopo aver ricevuto una segnalazione. Stando alle ultime informazioni, il rogo sarebbe partito da un trasformatore a olio di proprietà dell'azienda per poi arrivare a danneggiare parzialmente il tetto del capannone. Le cause al momento restano al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della stessa azienda. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle tre e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono state quattro invece le poliziotte coinvolte nell'aggressione avvenuta lo scorso martedì all'interno della casa di reclusione femminile della Giudecca. Una di loro, quella ferita in modo più grave, se l'è cavata con tre costole rotte e una prognosi di 21 giorni. Tutto ha avuto inizio quando una detenuta di origini brasiliane è andata in escandescenze e in un'esplosione di violenza ha iniziato a distruggere e danneggiare tutto quello che le capitava a tiro, per poi iniziare a picchiare furiosamente le agenti di turno. La donna si è infine barricata all'interno di un reparto dove è rimasta per un giorno intero fino a quando non sono riusciti a liberarla e trasferirla in un'altra struttura. La giovane incinta aveva chiesto di essere visitata da un medico, ma poiché il personale non ne aveva ravvisato la necessità, la richiesta era stata rifiutata. Il diniego ha fatto andare su tutte le furie la ragazza, che già nel mese d'aprile aveva dato segnali di profondo malessere. Malgrado ci fossero state delle avvisaglie, non è stato possibile prevenire l'aggressione, ha commentato il segretario dell'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria, Leonardo Angiulli. La situazione alla Giudecca è complessa, alla carenza di personale si aggiunge l'isolamento della sede, che è gestita da Padova. Alle agenti aggredite, conclude, va tutta la mia solidarietà e quella del sindacato. Ad alzare non le mani, ma la voce, sono stati invece ieri gli esponenti dell'opposizione alla nomina da parte del primo cittadino dei tre nuovi consiglieri delegati. In sede di consiglio comunale, infatti il sindaco Luigi Brugnaro ha conferito a Giorgia Pea, dal 2015 presidente della sesta commissione, la delega alle attività teatrali e al cinema della città di Venezia. Mentre a Stefano Zecchi, già professore ordinario di estetica all'Università di Milano e attualmente presidente della Fondazione Accademia Internazionale di Scienza della Bellezza, è andata la delega al progetto futuro. Infine ad Aldo Reato, quella per la valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città antica. A loro auguro un in bocca al lupo e li ringrazio per la disponibilità, dichiarato il sindaco, sottolineando che il lavoro è davvero tanto e il contributo di Pea, Reato e Zecchi sarà prezioso per raggiungere gli obiettivi prefissati da questa amministrazione. La maggioranza si allarga al consigliere eletto del partito dei Veneti Stefano Zecchi che in cambio riceve una delega, chissà se adesso lo vedremo più spesso in consiglio comunale. Commenta invece ironico Marco Gasparinetti di Terra e Acqua che rincara cosa ne è stato della promessa di Zecchi dello statuto speciale per Venezia e del pool di costituzionalisti che doveva scriverlo. Di fatto con questo nuovo acquisto la maggioranza di centrodestra passa da 22 a 23 consiglieri comunali su 36. Critico anche il capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Sacca prendendo in considerazione l'aspetto della gestione delle politiche e della cultura. Sono deleghe senza peso date a singoli consiglieri senza un bilancio né un potere effettivo, afferma Sacca che aggiunge abbiamo sempre chiesto un cambio di passo ma attribuire deleghe a consiglieri comunali rendendo se possibile ancora più confusa la governance non è una soluzione. La città dovrebbe essere una comunità dialogante e la cultura dovrebbe essere proprio l'embrema di questa sinergia. In questo modo invece siamo approdati a una conduzione monocratica e inappellabile. Restiamo a Venezia dove il comune potrà applicare la tassa di imbarco ai passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Tessera. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale, TAR, dopo aver respinto la richiesta di sospensione avanzata da SAVE, società che gestisce lo scalo e sostenuta nella sua posizione anche da una parte delle compagnie aeree che ritengono che la tassa di 2,5 euro penalizzi i viaggiatori. Ora l'amministrazione dovrà instaurare un dialogo con l'aeroporto per arrivare a un accordo sulle modalità di riscossione. Al momento non ci sono previsioni certe sui tempi di entrata in vigore, ma sembra che non sarà immediata. Caffarsetti ha sempre sostenuto che l'imposta è fondamentale per aiutare i conti della città e in particolare per far fronte alle spese di manutenzione che derivano proprio dalla pressione turistica. Dalla tassazione infatti potrebbero arrivare oltre 10 milioni di euro l'anno. Per il sindaco Luigi Brugnaro applicare il contributo è anche un'azione propedeutica alla richiesta di ulteriori fondi da destinare alla laguna. È una norma dello Stato, aveva spiegato nei mesi scorsi il primo cittadino. Purtroppo nel 2024 la città di Venezia finirà i fondi della legge speciale. Per questa ragione non possiamo applicare le tassazioni che ci vengono fornite come possibili. Se non lo facessimo non potremmo dimostrare che c'è bisogno di un rifinanziamento. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi. Grande successo per il concerto a sorpresa a Venezia di Samuel dei Subsonica che ha stupito veneziani e turisti con una performance di musica dal vivo gratuita e aperta a tutti proprio nel centro storico della città lagunare. Il cantante torinese infatti, insieme al suo gruppo i Motel Connection, si è esibito ieri sera al Bar Alcanton, uno storico baccaro veneziano a Castello, a due passi da San Francesco della Vigna. Il Bar Alcanton, che propone spesso musica dal vivo, ieri sera ha fatto decisamente il botto attirando tantissime persone tra passanti e clienti affezionati. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti.